Domenica 28 agosto toccherà la Picenum Off-Road gara in mountain bike ex CO a circuito valevole come ultima prova della Conero Cup. Il ritrovo è stato fissato per le ore 7.30 presso Piazza dell'Aquila e si gareggerà su un tracciato di 6 km con 220 metri di dislivello. La partenza avverrà al santuario di San Giacomo della marca, verranno premiati i primi tre di ogni categoria e ci sarà anche la premazione finale della Conero Cup 2022.